benvenuti i tifosi nero azzurri oggi siamo qui ad una nuova puntata di inter music show e toccherà a me presentarvi la mia playlist ma io guardo sempre lì si si, lo scemo un pò di volume no poi parte sky full of stars va bene il primo pezzo? se non va bene, non lo rifaccio Ma oh, io c'è la faccia, mi fate ridere Oh Germa, non basta Ma sì, ma Germa mi guarda in faccia così mi viene da ridere Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni E poi sei libero di decidere se abbonarti Per acquistare per tutte le informazioni Premi il tasto prima fila del tuo telecomando Vai su sky.ito, chiama all'199-100-200 Prova Interchannel e poi scegli